A me quello che ha sorpreso e amareggiato, come cittadino, è il fatto che lei non ha mai preso una posizione netta contro Cosa Nostra. Mi spiego. Lei qualche anno fa, due anni fa, ha detto che mangono fondamentalmente un eroe perché ha resistito contro l'offensiva di chi voleva fargli dire nomi diversi, cioè quello in mio e quello di Berlusconi. Mentre nella comune pensare, un mafioso come mangono, perché mangono è un mafioso, non è un eroe, è un eroe falcone, borsellino. Ma questo è banale dirlo. No, ma non è banale, è stupefacente magari sostenere. Io l'ho spiegato quando ho detto un eroe, ho detto per me è il mio eroe, il mio, non è un eroe.